A partire dal 22 gennaio prossimo si aprono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'anno scolastico 2016-2017. Il termine di presentazione delle domande scade il 22 febbraio 2016. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia, ovvero la materna, è riservata ai bambini e alle bambine nati negli anni 2011, 2012 e 2013. Nel caso le domande risultino superiori ai posti disponibili, hanno alla precedenza i bambini che hanno già compiuto o compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2016. Le famiglie possono iscrivere anche i bambini che compiono i tre anni dopo quella data e comunque entro il 30 aprile 2017. Ma per questi ultimi l'ammissione sarà subordinata ad alcune specifiche condizioni. Disponibilità dei posti, esaurimento di eventuali liste d'attesa, disponibilità di locali e dotazioni idonee alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti su tempi e modalità d'accoglienza. Per quanto riguarda invece le scuole primarie, ovvero le elementari, hanno l'obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2016. Possono iscriversi altresì in anticipo coloro che li compiono entro il 30 aprile 2017. Mentre per le scuole dell'infanzia le domande vanno presentate direttamente presso la segreteria dell'istituto comprensivo che gestisce la scuola, per le scuole primarie e quelle secondarie di primo e secondo grado, ovvero medie e superiori, le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online, collegandosi al sito del Ministero dell'Istruzione www.istruzione.it. La procedura informatica realizzata dal Ministero è di facile accesso. Le scuole offrono inoltre un servizio di supporto per l'iscrizione alle famiglie prive di strumentazione informatica.